Ciao! Buongiorno a tutti! Buongiorno a tutti! Buonasera! Ciao! Ciao a tutti gli amanti della moda e dei cani e benvenuti sul mio nuovo canale chiamato Fashion Dog Italia! Io sono Cecilia alias Cici ed ho deciso di creare questo canale YouTube per legare la mia vita al mondo dei cani. Ma per conoscerci meglio ecco 20 fatti random che non sai su di noi. Cici deriva da Cici Boom, il nome che usava mia nonna per chiamarmi quando ero piccola, perché Cici Boom era una babbola con i capelli ricci proprio come i miei. Il vero nome di Ellie è Eleanor ma io la chiamo in tanti modi diversi, tipo Eli Cotonelli, oppure Ellunda Camarunda, oppure e le musiche più belle. Gli assalti. Aaaaaaah, Ellie! Adoro il cioccolato e le patatine fritte. Ellie ama il pollo al forno. La mia più grande paura, perdere le persone che amo. Ellie ha paura di tutto ciò che si muove. Anche una busta di plastica. Qualsiasi cosa, insomma, una tenda, una matita. Vero Ellie? Buh! Io amo il romanticismo, i massaggi e le attenzioni. Sì, per i massaggi io ho domanda comunque. Ellie ama leccare qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa che esista, oggetto, persona, l'importante è che esista e lei lo lecca. Le cose che odio. Odio l'inverno, odio sciare e odio il freddo. Vivo in pratica quasi sempre con la borsa dell'acqua calda in mano durante tutto l'inverno. Ellie odia fare il bagno ma comunque è costretta a volte quindi alla fine lo faccio. Il mio film preferito? Non ho un film preferito però adoro i thriller. Il film preferito di Ellie? La carica di 101 ovviamente. Una cosa che adoro tantissimo è fare shopping con mia mamma e comprare cose per la casa. Mi piacciono Zara, Maison de Monde, tutti i negozi dove si trovano articoli per la casa. E poi adoro anche i negozi tipo brico, le Roamerland dove puoi acquistare articoli per il bricolaggio. Mentre faccio shopping, Ellie adora parlare con altri cani, a bagliare, a regliare, a dargli zaffate, insomma un po' tutto quello che si può fare. Nel frattempo ho ricevuto un bacio in bocca e grazie Ellie. I miei colori preferiti sono il bianco, il nero e il rosso. Il colore preferito di Ellie è il rosso sicuramente. Infatti a volte la chiamo Red Ellie. Adoro tantissimo passeggiare in riva al mare. Ellie adora giocare sulla sabbia. Vivo con il mio compagno da un anno in Sicilia ma ci piace anche molto viaggiare. Ellie si può dire che vive su di me in pratica. È sempre in braccio a me come vedete anche adesso. Credo che quello che conta davvero nella vita sia godersi istante per istante e quindi cercare di essere felici sempre per quello che si ha. Perché credo che ogni giorno sia un piccolo grande successo. ovviamente amiamo il fashion. Zappaci un pollo, iscriviti al nostro canale e scopri ogni venerdì un nuovo video dedicato al mondo fashion per i cani.